Partire dalle macerie per ricostruire il tempio più importante abbattuto dalla guerra, l'uomo, il messaggio per la Siria che viene lanciato dal meeting di Rimini ambizioso a nove anni dall'inizio del conflitto siriano. Infatti i problemi sono ancora tanti, uno su tutti, quello dei figli dei foreign fighters. I bambini nati dentro la guerra sono oltre 30.000 nell'intero paese, tra i 5 e gli 8.000 nella sola Aleppo. A loro è dedicato il progetto Un nome, un futuro, che vede uniti i cristiani e i musulmani. Il dolore ci unisce, sicuramente in arabo diciamo questo proverbio che una mano non può applaudire da sola, dobbiamo riunire, mettere tutti gli sforzi. Direi che questo aiuto è necessario, indispensabile, nel periodo della guerra diventa veramente il salvataggio perché i bisogni, la realtà è molto dura e molto complessa, quindi richiede davvero l'intesa e lo sforzo di insieme. Educazione, cure mediche e psicologiche, aiuti alle madri vittime di violenza. L'unione interreligiosa da cui tutto è nato viene rappresentata in fiera da Monsignor George Aboukazen, vicario apostolico di Aleppo, Binan Kayali e Firas Lutfi, responsabili del Franciscan Care Center della stessa città, e da Mahmoud Akkam, gran mufti di Aleppo collegato in diretta dal centro francescano in Siria. Una terra troppo spesso dimenticata, spiega Aboukazen, dall'Occidente e dall'Europa. Dall'Europa ci aspettavamo molto, perché come ho detto noi abbiamo, non voglio dire milioni, ma centinaia, centinaia di migliaia che hanno studiato in Europa. E quindi sai, con i valori europei, culture europee, quindi si aspettavano un po' qualche cosa di più, ma purtroppo siamo un po' delusi. Se non cambia anche un po' politica, quindi non farà niente, perché purtroppo sta seguendo, scusate, sta seguendo un po' la politica delle grandi potenze, forse un po' anche alla cieca. Insieme però si può ripartire e i bambini di Aleppo lo testimoniano al mondo intero. Grazie.